Bu, 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 bu! Bu, 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 bu! Bu, 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 bu! Bu, 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 bu Il numero 27 lo spread Antonino, con il numero 29 Zagor Riccardo, con il numero 35 Masierati Alberto, e a disposizione del nostro unico, imprescindibile mister, il condottiero Mimmo. Con il numero 1 c'è la sala cinesca Stefano Ambrosi, con il numero 2 il vigilante Salvatore Ferraro, con il numero 5 il principino Chris Miglietta, con il numero 9 il bomber Gianluca Litteri, con il numero 14 Flash Gordon Angelo Bencivenga, con il numero 18 Explosion Stefano Botta, con il numero 33 l'illusionista Fabio Ceravolo. Grazie a tutti! 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 del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti che le pere vanno pur 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 che le pere vanno pur 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 che le pere vanno pur 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 che le pere vanno pur 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 cantiamo e tripolamo ma non c'è damo pace a noi non c'è spaventa né padella né l'abbraccio è un po' come l'umino che te piglia la capoccia sei un po' con l'acciaio che se piega e non te scoccia tu metti c'è la voce tu metti c'è l'ugore e tu tra le mispini e su valore che le pere vanno pur 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 Buu, 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 buu